... Sicuramente sul Rai 1 nel Paradiso delle Signore, poi un altro progetto, intanto a teatro con il sorpasso, non so adesso ancora le date, il calendario è in via di definizione, quindi una bella stagione ricca di lavoro, di belle cose dal punto di vista professionale e dal punto di vista privato. Beh, è una bella novità, è il seguito ideale della prima serie, quindi tutti i personaggi vengono in qualche modo sviluppati, alcuni conclusi, tanti nuovi personaggi in arrivo, però stesse emozioni, stesso ambiente glamour, pop, bello dinamico, che tanto è piaciuto nella sua prima stagione. Guarda, se c'è l'attesa noi ne siamo contenti, quindi speriamo di essere all'aspettativa, di corrispondere all'aspettativa del pubblico. Secondo me piace molto l'aspetto un po' più misterioso, quelle ombre che caratterizzano un po' il personaggio di Pietro Mori, quelli un po' irrisolti, quei romantici un po' decadenti, quegli eroi che cadono, si rialzano in qualche modo e che non si sa mai dove vanno in qualche modo a parare, è anche un po' lo stimolo per noi attori, insomma, è tutto il pietà. Grazie.